Innanzitutto una grande gioia vedere Bergamo qui in Regione Lombardia, attraverso la strada del vino della Val Calepio, il consorzio e i vignoli bergamaschi. Un evento internazionale che porta quindi il modello Cabernet, che unisce l'internazionalità di questa opportunità che promuove il territorio bergamasco, lombardo nel mondo. Sicuramente per quanto riguarda il mio assessorato sono importantissime queste azioni di marketing perché sono le prime che vengono colte dal turista. Quindi personalmente ringrazio tutti coloro che dentro questa manifestazione si stanno impegnando e con occhio di riguardo anche verso la formazione che è inclusa attraverso il sostegno di questo bellissimo evento.